Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Elisa e vi do il benvenuto sul mio canale. Allora, finalmente, dopo una settimana che è iniziato il 2023, sono qui per parlarvi dei miei libri preferiti del 2023. In realtà non è proprio così, nel senso che di solito per la fine dell'anno faccio un book tag. Quest'anno non ho voluto cercare online delle domande, insomma, a cui rispondere, ma ho voluto scegliere dei libri che secondo me rispecchiavano. Determinati criteri e voglio parlarvene. Quindi, adesso devo ricordarmi perché ho scelto questi libri, però ce la posso fare. Faccio una piccola premessa a questo discorso, come li prenderò dalla pila che ho qua, ve ne parlerò. Quindi saranno un po' mischiati, fantasy, classici, giusto per dirvi perché ho scelto questo libro e perché secondo me vale la pena leggerlo. Quindi io ve lo consiglio per queste motivazioni che piano piano andrò a dirvi. Allora, il primo che prendo da qua, di cui ho parlato ampiamente, a dire la verità di tutti questi libri ho parlato ampiamente perché ovviamente mi sono piaciuti talmente tanto che ve ne ho già parlato. Però, il primo è Segreti di famiglia. Perché ho scelto questo libro? Questo libro l'ho scelto perché innanzitutto è uno dei primi romanzi familiari che ho letto. Infatti si va a analizzare quattro generazioni di donne. E soprattutto perché questo libro mi ha segnata tantissimo. Mi ha fatto crescere, mi ha dato tante cose che non avevo mai sperimentato nella lettura. Quindi la mia scelta in realtà è per questo motivo. Quindi un libro che mi ha dato tanto è stato questo qua. Infatti oltre ad analizzare tutto lo scenario femminile in Croazia, quindi anche attraverso quella che è stata la Croazia sotto Tito, quindi quando era ancora Jugoslavia, poi dopo quando si è disgregata, tutti i vari problemi che erano legati a questa disgregazione della Jugoslavia e prima alla dittatura di Tito. Oltre a tutto questo, c'è veramente secondo me una crescita della nostra protagonista. Infatti lei ce lo racconta con i suoi occhi e piano piano andiamo indietro a vedere anche perché lei detesta o apprezzi determinate persone, determinate donne all'interno della sua famiglia. E' un libro che veramente a me ha fatto bene al cuore. Non è un libro particolarmente felice, anzi è piuttosto sui toni tristi, cupi, nostalgici, ma per me è un libro che mi ha dato tanto. Quindi io ve lo super consiglio. Ovviamente di tutti questi libri trovate una recensione sul canale, non so se l'ho fatta di tutti i singoli, però sono più che sicura che trovate perché ve ne ho già parlato. Altro libro sullo stesso filone, ma l'ho scelto più che altro per la questione della vita familiare legata questa volta alla Shoah e all'ebraismo, è Abbandono. E' un libro che mi è piaciuto tantissimo. Questo veramente, questi due libri per me sono stati, questi due, una rivelazione. Cioè io ve li consiglio troppo, veramente. E questo innanzitutto l'ho scelto perché è un'iperborea e ne ho scelto soltanto un altro ma per un'altra motivazione. E poi perché questo libro può rientrare nella categoria di quelli che mi hanno dato tanto. Mi è piaciuto, devo dire che la scrittrice ha una scrittura molto molto scorrevole, una penna molto scorrevole, molto bella e questa tipologia di libri non intrattiene, basta. Vi lascia veramente qualcosa ma con un segno indelebile, quindi anche questo molto consigliato. Altro libro, sempre di perborea, che però ho scelto per un'altra motivazione, è Essere Lupo. Perché ho scelto questo libro? Per la natura. Questo libro l'ho scelto per tutto quello che si sta rovinando. Io purtroppo sento un'ansia indicibile legata alla questione climatica, veramente. E in questo libro si vede, si vede come si sta rovinando, cosa c'è, cosa ancora si può salvare. Non è il punto focale del libro ma si vede, si vede parecchio. Il punto focale è questo lupo, ovviamente, è il nostro cacciatore, che da cacciatore si rende conto di non riuscire più a fare il suo mestiere. E si immedesima nelle sembianze di questo lupo. Quindi anche il fatto di cacciare come sport. Nel 2023-2022 non serve assolutamente cacciare come sport. Non dobbiamo procacciarci il cibo, ne abbiamo più che in abbondanza. E quindi essere braccati sotto questo punto di vista e invece poter godere della libertà, della vita selvaggia, sono stati due aspetti che mi hanno molto colpita di questo libro. E' abbastanza breve ma è molto intenso. Io qui ci ho veramente trovato tante delle mie angosce e soprattutto il fatto di come le persone non riescano a vederle. Cioè come le persone non riescano a vedere cosa sta succedendo, cosa stiamo combinando alla natura, agli animali, a noi stessi. Si può leggere in tante altre chiavi, io l'ho letto in questo modo. Molto bello. Per invece cambiare totalmente vi faccio vedere il mio classico preferito di quest'anno. Allora ce n'è uno che non ho ancora terminato, quindi rientrerà nel 2023, sempre di uno scrittore francese, ma questo è stato il classico del 2022 che non so perché io non avessi mai letto prima. Nel senso l'avevo letto in francese, però spezzoni, mai per intero, Madame Bovary. Allora, bello, stupendo. Qua non è che posso dirvi, l'ho scelto proprio perché è un classico, un classico della letteratura mondiale e francese ed è stupendo. Cioè, Flaubert ha fatto un lavoro magistrale fregandosene di tutti quelli che erano i canoni dell'epoca. Per me questo libro è meraviglioso. Cioè, non si vede mai bene in telecamera perché io spesso uso i post-it molto molto chiari, ma la quantità di post-it che ho usato per annotare questo libro è assurda, credetemi. e è uno di quei classici che penso non mi scorderò mai e che forse prima o poi nella vita andrò a rileggere, mai dire mai perché non si può sapere, però è spettacolare, è meraviglioso, bellissimo. Per, invece, cambiare totalmente genere, questo l'ho preso perché racchiude due tappe fondamentali, diciamo, di quella che è la mia lettura, la letteratura russa e il distopico. Allora, non mi sentite mai parlare particolarmente di distopici perché io ne devo leggere tipo uno all'anno, due all'anno massimo. Ho bisogno di tanto tempo per interiorizzare un distopico perché per quanto sia un genere che mi piace non riesco a leggerne uno dopo l'altro, ci mi sento seriamente male. Per me 1984 è stato un trauma e l'ho letto due volte, ovviamente in anni diversi. Però questo libro, La giornata di una Prichnik racchiude appunto quella che è la letteratura russa perché lo scrittore è Sarokin, appunto un autore russo che è ancora vivo, è abbastanza giovane anzi, e la distopia. Infatti siamo in una mosca futuristica di 2000 o 3000, non mi ricordo. Non mi ricordo se è il 2033 o il 3000 qualcosa. sta di fatto che abbiamo il connubio tra passato e futuro. Infatti gli aprichnichi erano la guardia di Ivan IV il Terribile, che è stato uno zar del passato molto molto sanguinario e loro di fatto erano la sua cerchia di assassini. Ed è esattamente questo, ma traslato in una mosca futuristica in cui sono anche, diciamo, cambiati certi aspetti della vita. Quindi loro non vanno più sui cavalli, ma hanno queste auto di lusso, però di fatto continuano a fare gli assassini, spietati, e c'è anche una tendenza un po' strana all'interno di questo libro, cioè nel senso che c'è un flusso di cose più o meno bizzarre, di azioni, eventi più o meno bizzarre, che io vi dirò alla fine del libro, ho detto, non sto capendo. In realtà a me è un libro che è piaciuto molto, appunto un distopico. Vi lascio la trama, perché secondo me potrebbe essere molto bello e so che non è conosciuto. Ah, ecco, scusate, nel 2027 la Russia, diciamo, la mosca distopica. Spero che si legga la trama, però so che non è conosciuto. Io ve lo consiglio molto. Anche perché di fatto è velatamente tutta una critica a quello che è il regime. Per quanto riguarda invece ciò che mi è rimasto adesso, allora, sono due saghe, ma uno l'ho scelta perché è una saga, mentre questa che sto per farvi vedere l'ho scelta perché sono in inglese. Quindi per me questi sono i migliori libri in inglese che io abbia letto in questo 2022. Sono due perché non potevo scegliere tra uno e l'altro, sono stati troppo belli. E sono Greybeater e Redemptor. Io lo sapete, sono impazzita letteralmente principalmente per le copertine e poi, a dire la verità, in questo caso l'abito fa il monaco perché tanto è bella la copertina quanto è bella la storia dentro. L'inglese non è difficilissimo. Su questi sono certa al 90% di aver fatto una recensione, quindi non mi dilungo troppo. Questi sono stati i migliori libri che io abbia letto in inglese quest'anno. stupendi, stupendi. Per concludere vi faccio vedere la saga. La saga che ha la L maiuscola. Io ho letto diverse saghe quest'anno, infatti ero, c'è stato un nanosecondo di indecisione, nel senso che ero tentata di portarvi Akotar, quindi A Court of Thorns and Roses e tutti gli altri libri. Ma poi ho detto no, 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 no. La saga di quest'anno è un'altra perché questa merita. Merita tutto. Anche di questa so di avervi fatto un video recensione e io sinceramente spero di dimenticarmela per poterla rileggere. Sto parlando della saga della Guerra dei Papaveri che è composta appunto dalla Guerra dei Papaveri, La Repubblica del Drago sono tutti piuttosto consistenti e La Dea in Fiamme. Allora, queste edizioni sono oltretutto meravigliose della Oscar Vaux ma piccola parentesi la scrittrice ha scritto un altro libro che si chiama Babel e io vorrei leggerlo tantissimo però devo avere tempo quindi per ora no. Detto ciò questa scrittrice per me è meravigliosa ha fatto un lavoro pazzesco. Questa saga nonostante sia tendente al fantasy quindi abbia all'interno degli elementi fantastici secondo me è una saga che tutti possono leggere perché principalmente è basata su quelle che sono le strategie di guerra in questa Cina molto divisa molto arretrata in cui in cui appunto coloro che hanno il potere sono gli sciamani non tutti possono essere sciamani c'è molta paura verso queste persone e la nostra protagonista è proprio una di queste e si troverà a dover lottare per la propria vita e la propria sopravvivenza non solo per la sua ma anche per quella dei suoi amici Ora questa è un'altra trilogia di quelle che non ha un lieto fine per niente io sinceramente vi dirò per me poteva andare avanti a scrivere altri tre libri perché io trovo che il finale sia tuttora aperto quindi non so se ci sarà effettivamente più avanti col tempo un seguito però Rin che è la protagonista io ce l'ho nel cuore come Niesa come Kitai sono bellissimi e come vi dicevo per me questa è una saga che dovrebbero dovrebbero leggere tutti anche quelle che anche le persone che non sono amanti del fantasy o del romance perché ce n'è dentro veramente poco di romance poi penso l'un per cento su una mole che supera le duemila pagine e molto tattiche di guerra strategie sopravvivenza crudo e violento molto a tratti ma questa saga mi ha rubato il cuore e quindi non ho avuto quel minimo di esitazione e poi ho detto no la saga è questa per concludere questo video io avevo fatto l'anno scorso all'inizio dei buoni propositi per il 2022 sono riuscita a mantenerli no però mi ero prefissata di leggere cento libri non ho letto cento libri l'ho risettato di nuovo come obiettivo del 2023 però ne ho letti 75 sono molto molto contenta soprattutto perché sono stati libri vari ho ripreso in mano generi o letterature straniere che era anni che non leggevo tipo la letteratura francese e quindi sono assolutamente contenta del percorso che ho fatto quest'anno nelle mie letture inoltre avevo deciso di leggere 20 libri in inglese e non ne ho letti non mi ricordo neanche quanti ne ho letti mi sembra una quindicina su per giù però ho letto ben tre libri in russo e due in francese che proprio di leggere in francese io non me lo sarei mai più sognata e invece l'ho fatto quindi sono estremamente contenta anche di aver ripreso in mano altre lingue oltre all'inglese per questo 2023 non avrò tanti propositi nel senso che ho deciso che non farò più questo di settarmi dei propositi del genere ne ho soltanto due uno è appunto leggere 100 libri se riuscirò non è una cosa che devo fare quindi piuttosto non esco di casa pur di finire 100 libri in quest'anno no assolutamente no non sono il tipo l'altro proposito è leggere tre libri molto consistenti sono tre recuperoni che vorrei fare il primo è il conte di monte cristo questo libro probabilmente potrebbe scalare al 2024 per un semplice motivo è l'ultimo arrivato in casa mia e ha tipo 1100 passapagine l'altro che vorrei recuperare e ho un progetto dietro e se va a buon fine forse ve lo dico ve lo annuncio se no lo leggerò da me è guerra e pace quello sicuramente quel libro sarà letto nel 2023 punto stop zero non c'è altro da dire e l'altro è shantaram shantaram mi mette un po' di ansia mi mette un po' di pressione leggere questo libro perché deve essere molto pregno di significati ma tutti quelli che l'hanno letto mi hanno detto che è bellissimo e anche quello ha una quantità di pagine tipo mille passapagine quindi ci vuole tempo questi sono gli unici due propositi del 2023 ho concluso questo video io spero che vi sia piaciuto fatemi sapere in base alle diciamo tappe che ho fatto io in questo video quali sono i vostri libri quindi qual è stato il vostro classico preferito la vostra saga preferita eccetera se volete supportare il canale lasciate un pollice in su e iscrivetevi se volete farlo in modo attivo c'è un link grazie al quale potete regalarmi un libro come sempre vi lascio i miei profili instagram e tiktok nell'info box e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao